C'è un biglietto da visita diverso da tanti altri allenatori. Quando mi chiedono sempre, nella tua vita chi è stato più bravo? Io dico lui, perché? Perché vinci le partite, è bravo. L'allenatore è colui che parla alla squadra, che parla ai giocatori, che traccia la linea. Quello non sa perdere, quell'altro non sa perdere. Secondo me, molte volte, invece, mi accorgo che tantissimi non sanno vincere. Sono le due cose più belle della mia vita. La mia famiglia e la Coppa del Mondo. Lui disse, io voglio allenare, voglio stare in campo. Lui disse, loro sono forti, ma non hanno mai incontrato una squadra come noi. Tu rimani qua. Se sei un grande giocatore, vai in una grande squadra e devi vincere in questa squadra. Perché se sei un grande giocatore, vai in una grande squadra e non vinci, allora la tua carriera perde di significato. Il primo giorno all'allenamento disse, noi siamo più forti di tutti, vinciamo il Mondiale. Da d'allenatore è quello che meraviglia. Proviamo, siamo qua, quindi proviamo a fare quello che ci chiede. La sua presenza è dura. È il principio con il quale io ho cominciato sempre a fare le mie cose. Adesso vinco io.